Tu sei andato via dalla RAI in maniera diciamo abbastanza burrascosa, sei andato via dalla setta in maniera molto burrascosa, ma sei andato via o ti hanno invitato ad andare via? No, no, non è che mi hanno invitato, mi hanno mandato un'email, questo mi ha un po' deluso umanamente, perché nel senso nella vita un editore privato è libero di fare tutto quello che vuole, però dopo anni di successi, perché ricordo ancora che alla sette battemmo una volta RAI 1, che era un evento, trovarsi un'email dove si legge lei rimane a disposizione senza spiegare il motivo, perché il motivo non è mai stato vero spiegato, ecco questo io posso intuirlo, ma mi ha deluso umanamente, perché per me Urbano Cairo era, lo consideravo quasi un fratello, perché veramente avevo trovato Tutti i due Pribontesi, un rapporto molto forte, anche personale, umano, era vero, mi sembrava vero quel rapporto, quindi trovarmi un'email… Ma era vero quello che ha detto Cairo, che diciamo il programma perdeva colpi, costava troppo per quello che rendeva… Guarda, io ho troppo rispetto, perché a me piacerebbe un confronto, per esempio una chiacchierata come due, nella storia televisiva mai nessun programma di successo, e noi avevamo un programma di successo, perché quando siamo stati chiusi eravamo allo stesso livello di Floris in quell'anno, che Floris è un punto di riferimento della sette, nessun programma è mai stato chiuso quando funziona e fa i numeri, mancavano pochissime puntate alla fine, è molto strano che tu un mese prima dici a un conduttore, scrivi, sarai il protagonista ancora per altri due anni alla sette e poi in quel mese che è successo? Sappiamo cosa è successo, c'è stato il caso giudiziario, l'incontro non è mai ben chiarito con questo signore… Con un uomo molto vicino ai fratelli Graiano, Baiardo, l'uomo che aveva detto che sarebbe stato arrestato Matteo Messina a denaro due mesi e mezzo prima, quindi non credo sia un impeggente, certo noi siamo andati a toccare dei temi molto complessi, perché quando parli di mafia e fai numeri parlando di mafia, tocchi dei poteri, quindi io credo che il problema vero fosse quello, era il contenuto di ciò che noi facevamo, non il costo, però ripeto a me la sofferenza è vedere per la seconda volta come dicevi tu, amici, fratelli perché io ho creato dei gruppi di lavoro fortissimi, distruggersi, andarsene via, cercare altri posti, ecco questo… E siete più sentiti con Cairo? No, io penso poi che il tempo aiuterà a incontrarsi magari in modo strano, occasionale, però io guardo al futuro, cioè sono uno che veramente guardo davanti. a tutti… a tutti… a tutti…